Salve amici del Centro Meteo Italiano. Alta pressione sul Mediterraneo con giornate per lo più soleggiate. Vediamo però nel dettaglio le previsioni per giovedì 10 marzo. Cieli sereni o poco nuvolosi al mattino su tutta la penisola, innocui addensamenti su Liguria e Puglia. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con sole prevalente da nord a sud, locali addensamenti solo su Alpi occidentali, Liguria e Puglia. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile su tutta l'Italia, con nubi sparse e ampie schiarite. Temperature minime e massime in generale rialzo ovunque. Per ulteriori dettagli seguite le previsioni aggiornate sul nostro sito oppure sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano. Grazie. Grazie a tutti.